Posticipo della 26esima giornata di campionato, in prima categoria si gioca Villa Cassano Luino di mercoledì sera per via della finale di Coppa giocata dalla squadra di Visentin, che parte meglio con alcune conclusioni verso la porta avversaria, la prima di Lauria di Collopieno, la seconda di Giordano sulla quale attento Ruzzoni. Luino in difficoltà, Adami fa buona guardia su Cosso e Pavanello, quest'ultimo non al 100% per via di un infortunio e out all'intervallo ci prova Cosigliozzino con un tiro cross ma controlla Rinaldi. Col passare dei minuti cresce d'incisività il Villa Cassano, palla tenuta viva da Ruggia, sponda per Bertani ma il tiro è debole e centrale. Chance sicuramente più nitida sui piedi di Lauria che controlla di petto, si mette il pallone sul destro ma colpisce in pieno la traversa. Villa Cassano sfortunato mentre dall'altra parte Cosso si conquista una punizione pericolosa ma Olaya la spreca. Con le immagini nella ripresa subito palla dentro per Bertani e attento Ruzzoni sul primo palo dall'altra parte Spena tiene viva un pallone sulla sinistra e il tiro cross colpisce in pieno l'incrocio dei pali anche in modo un po' inspiegabile. Luino galvanizzato dall'occasione avuta ma il Villa Cassano successivamente torna ad attaccare dopo questa parata di Rinaldi da un corner alla destra girata verso la porta di Lauria salva sulla linea un difensore del Luino. Dalla ripartenza seguente dopo il tiro da fuori area contro piede mortifero degli ospiti Cosso mette dentro il pallone per Iozzino che solo davanti a Rinaldi non sbaglia. 0 a 1 al minuto 17 della ripresa e Luino in vantaggio sul Villa Cassano. La squadra di Visentin sembra accusare il colpo e fa la frittata due minuti dopo. Impostazione dal basso innocua tanto da sorprendere tutti compresi noi comprese le nostre telecamere. errore di Giordano e palla per Cosso che gira Rinaldi e deposita il pallone in rete. Gol del 2 a 0 per gli ospiti segna ancora una volta il leader offensivo del Luino. Tutto in due minuti l'1-2 che deciderà la partita. Il Luino approfitta del momento positivo ma Cosso per due volte manca il colpo del definitivo K.O. con due errori da dentro l'area di rigore. Si rivede allora dall'altra parte il Cassano. Sponda di Briancesco per Orsi. Gran parata in corner di Ruzzoni. Sull'angolo seguente i padroni di casa protestano per l'uscita proprio di Ruzzoni chiedendo il rigore non dato dal direttore di gara ma il gol arriva lo stesso. Errore di Visconti. Sul pallone si avventa Briancesco che mette dentro per Bertani. Da due passi il numero 7 non può sbagliare e dà così speranza ai compagni segnando il gol del 2 a 1. Il Villa Cassano a questo punto attacca testa bassa. Azione molto simile alla precedente ma Orsi non riesce a concludere col Villa Cassano che si dimostrerà poco lucido nel finale di partita. I padroni di casa in pieno recupero chiedono ancora un calcio di rigore ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Vince così il Luino in trasferta. 2 a 1 il finale per gli ospiti. Il Luino blinda la salvezza e complica i piani playoff del Cassano.